14esimo turno del campionato di eccellenza, Ricciardelli di Sansevero si affronta un ortanoma in maglia bianco-azzurra in completo granata, il Sansevero direzione di gara affidata a signor Carvella di Crotone assistenti magnifico e pregigato della sezione arbitrale di Bari con le immagini dell'ufficio stampa del Sansevero andiamo alla sintesi della gara la conclusione di guadagno, pallone sul fondo ci prova ancora il Sansevero con De Vivo questo pallone in avanti allontana Miranda Pocai schierato quest'oggi titolare poi il cross di Diop per poco non ci arriva a consolazio, il pallone si perde sul fondo prova anche l'Ortanova a replicare con questa conclusione e la deviazione di Carella che smanaccia in calcio d'angolo ancora padroni di casa pericolosi con questo colpo di testa di consolazio, pallone alto sulla traversa Ortanova con Bentos, la sponda per Cormio che svilgola e calcia sul fondo ci provano ancora i padroni di casa con Rodolfo De Vivo, la conclusione, la palla deviata da Bruno poi ancora Ortanova che salva e qui la deviazione questa volta è di Miranda Pocai che devia in calcio d'angolo Ortanova pericoloso qui con il colpo di testa e il gol del vantaggio siglato da Seba Bentos, l'uruguaiano al 37esimo minuto porta avanti l'Ortanova nella ripresa prova a replicare la formazione di casa con questo cross in mezzo per la matrice, l'ex della partita riporta in parità la contesa al 49esimo minuto il Sansevero perviene al pari ci provano ancora i padroni di casa con questo pallone in mezzo, si salva la difesa Ortese poi ancora Sansevero con questo colpo di testa questa volta e Consolazio a portare avanti il Sansevero per il gol del 2-1 53esimo minuto il Sansevero trova il gol del vantaggio poi ancora Sansevero con la conclusione di De Vivo, facile tra le braccia di Miranda Pocai sempre i padroni di casa con Abissinis che prova a replicare il gol contro il Corato poi è Lamacchia al 78esimo minuto con questa conclusione di sinistro dal limite dell'aria riportare in parità la sfida ancora in gol Davide Lamacchia poi la ripartenza dopo tre minuti con Bentos servito lungo se ne va l'uruguaiano tutto solo davanti a Carella che porta in vantaggio l'Ortanova il gol del 3-2 prova a replicare la formazione ospite con Diop il pallone si perde sul fondo, non c'è più tempo vittoria dell'Ortanova prima sconfitta casalinga per il Sansevero Ortesi che conquistano tre punti pesantissimi rischio rischio uma rischio rischio rischio